Ciao sono Stefano, oggi ti spiego perché partiranno le lezioni virtuali, cioè lezioni fatte con un proiettore, con un istruttore che farà delle lezioni molto belle. Vogliamo sostituire i nostri istruttori? No, per l'amor del cielo, abbiamo degli istruttori qualificatissimi, con tante specializzazioni, abbiamo impiegato anni per raggiungere questo livello, quindi ce li teniamo ben stretti. Allora perché partiamo con le lezioni virtuali? Ma per diversi motivi, intanto vogliamo ampliare in modo importante, enorme, il servizio, anche perché abbiamo tante persone che fanno i turni, quindi vorrebbero frequentare lezioni di gruppo in orari strampalati, che noi ovviamente non possiamo riempire tutti gli orari. Ecco, allora inseriremo queste lezioni proprio da brevissimo, per l'estate li potrai provare e sperimentare, perciò lezioni di step, di yoga, di pilates, di tonificazione. Queste lezioni vanno quindi a riempire quei buchi, quei vuoti che ci sono, ma rappresentano un'ottima opportunità, anche perché potrai magari far lezione con pochissime persone, magari potrai essere anche da solo a fare questa lezione. Ecco, questo potrebbe essere un grande vantaggio per quelle persone anche che si vogliono avvicinare alle lezioni di gruppo, ma che si sentono in imbarazzo con le altre persone, magari che hanno grande soggezione dell'istruttore, o addirittura vengono inibite dall'approccio dell'istruttore quando li corregge. Ecco, guarda, abbiamo pensato anche a questo, quindi vogliamo programmare un mese dove la solita lezione, sempre quella lezione, viene presentata continuamente. Perciò per un mese ti troverai la stessa lezione di pilates o di yoga per imparare bene bene le posizioni, la stessa lezione di coreografia o di step, o di step base, o di coreografia di base, te la troverai per un mese per imparare bene i movimenti e i passi. Quindi cosa succederà? Che se non hai mai fatto una lezione di gruppo potrai cimentarti anche da solo con pochissime persone per provare a fare questa lezione di gruppo. Se ti romperai o ti troverai in difficoltà i primi 10-12 minuti potrai lasciar stare, poi magari provare il giorno successivo, due giorni dopo, per prendere confidenza piano piano, proprio perché non c'è nessuna problematica di giudizio o di confronto con qualcun altro. Quindi è un servizio nuovo che avremmo piacere che tu provassi a sperimentare. Provaci, è compreso un elaboramento quest'estate, un'occasione in più non solo per prendere il sole ma anche per pensare un pochino a se stessi. Guarda, l'estate diventa un'opportunità straordinaria, non solo per rilassarsi ma anche per cominciare a prendersi cura di sé. Ok? Ciao ciao!